Sono la prima donna a guidare questa società italiana di management, che è la società scientifica dei docenti di management, siamo più o meno 700 docenti che rappresentano i docenti di management in tutta Italia. Quanto è stato difficile? In realtà credo che i tempi siano maturi, sono stati maturi, non so se è stato il Covid o cosa, però si sono messi insieme diverse cose. Il famoso allineamento astrale. Un allineamento astrale che però non è... Poi noi lo sentiamo, l'ho sentito dire da tante manager che sono arrivate a rompere quel tetto di cristallo, quindi sono delle cose che sono abbastanza tipiche. Primo è delle organizzazioni che hanno dentro uno o due mentor che realmente vogliono portare avanti l'istanza della parità di genere e dell'inclusività, per cui sono loro a darti l'opportunità. Dall'altro lato un set valoriale di queste organizzazioni, della quale io avevo contribuito tanto, ma come tante altre persone, sono un set valoriale che è aperto, è inclusivo e vuole mettere a frutto e valorizzare il talento delle persone indipendentemente dalle loro caratteristiche poi specifiche. Le ragazze laureate riescono ad accedere al mondo del lavoro molto più velocemente rispetto ai loro colleghi maschi. Sono colpito da alcuni dati legati alle donne che ricoprono ruoli dirigenziali. Oggi sono circa il 21%, sono il doppio rispetto al 2008. Se poi ci concentriamo su determinate fasce d'età, cioè delle donne sotto i 35 anni, questa percentuale aumenta in modo significativo. Sono il 40% le donne che ricoprono ruoli manageriali, sia in termini dirigenziali che in termini di quadro. Grazie. 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 Grazie.